eccoci Fabio siamo arrivati alle gorette siamo al mare ragazzi che bello si andiamo in campeggio andiamo in campeggio andiamo a vedere vai però non mi sembra proprio le gorette questo mi ricorda tipo scandici e le zone lì sono un parcheggio poi no e più che altro ma non è che tipo cioè è una nuova moda penso perché cioè credo che a volte la sabbia no abbia un po' brutto le palle quindi il procedimento in basso mettiamo il cemento ah ci sta forse così fa più caldo ah guarda hanno messo anche le p tipo per decorare bellino p è di Paolini è vero p di Paolini p di campeggio dai dai sto fai un peggio si esatto dai andiamo andiamo non voglio andare in spiaggia andiamo in spiaggia oh guarda che bella spiaggia oh guardate ma c'è già la gente pronta le gorette guardate questa gente è in campeggio qua lei lei da quanto è che ci ha inviato questo curriculum ma io l'ho inviato cinque anni fa eh ragazzi giochiamo a carte giochiamo a uno mi sa che stanno no lasciamo lì stare ma non siamo alle gorette non c'è lì di lavoro Fabio lascia lì stare non siamo alle gorette lo stanno assumendo sentiamo cosa fa vediamo se lo assumono eccetera che sono di colori ma ne gli diamo un'altra opportunità ci dia tutte le sue specifiche le sue abilità ah allora io 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 piace i modellini secondo te perché il lavoro sta facendo il colloquio palesemente per il bagnino perché siamo alle gorette hai ragione ma lei è il bagnino c'è anche la maglia da bagnino ma scusate ma sento me che ma che lavoro è questo che lavoro sta facendo io ora sto facendo il bagnino perché non ho ma lì c'è un signore che guarda scusi cosa da tanto da guardare io sono io sono il prossimo per il colloquio ma mi stava rubando la roba dalla macchina no io sono il ragazzo che mi si chiama il facchino ah ok oddio c'è un collega ora vi investi ciao ragazzi buongiorno ragazzi siamo alle gorette guardate ma l'avete assunto alla fine l'avete assunto scusi un po di professionalità lontano assunto io faccio un casino qui è lui è raccomandato dovete prendere un attimo c'è un caso di vita o di morte ok è un aereo è un no che era è un aereo è un uccello no e allora chi è ecco veloce veloce faccio vedere aspetta 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 in quadro